Quando Gianpaolo mi ha chiesto di venire qui questa sera, innanzitutto ero felicissima di vedere per la prima volta San Patrignano, perché non ho mai avuto occasione di esserci stata prima e mi ha colpito veramente molto. E poi mi ha detto, devi parlare dell'importanza della comunicazione digitale e social. Per me è un invito a nozze perché lo insegno, lo pratico tutti i giorni, lo insegno ai ragazzi in università e ho lavorato anche, ho già collaborato con Sanofi su una social academy e lo farò su queste cinque voci che vedete qua alle mie spalle. Le voci delle cinque azioni, i hashtag che stiamo usando questa sera. Io per parlarvi di questo, per me appunto è quasi troppo facile perché sono in rete da sempre, credo fermamente nel potere della divulgazione della rete, insegnandola appunto in qualche modo, cercando di farla conoscere. Mi rendo conto che c'è ancora bisogno, tanto bisogno di divulgazione, soprattutto nei campi che esploriamo questa sera, della salute, della medicina, della condivisione di informazioni di salute perché ci vuole tanta pazienza, tanta presenza e diciamo così anche tanta voglia di non farsi trascinare in polemiche sterili. Siccome una mia vecchia direttrice di un magazine per il quale ho lavorato tantissimo mi diceva, lei era molto analogica, mi diceva beh ma in fondo internet è sempre esistita, la gente ha sempre fatto rete prima della rete, la rete dà uno strumento in più. E ho pensato è vero, allora questa sera vi voglio raccontare queste cinque azioni con la storia di una mia amica, il mio personale eroe del quotidiano, visto che è uno dei temi della serata. Lei è Silvia, una professionista, una mamma lavoratrice, una mamma single, una persona con la quale possiamo identificarci in tante, è diabetica e poco tempo fa ha scoperto che suo figlio preadolescente era diabetico e quindi ovviamente c'è stato un momento di confronto, di accettazione, di studio, anche di paura, è normale. E Silvia è stata così generosa da dirmi, prendi la mia storia, prendi le mie foto, prendi i miei post, raccontala, perché poi alla fine è inutile cervellarsi sui grandi temi quando poi magari la storia ce l'abbiamo lì, nella storia delle persone vicine a noi. Come Silvia appunto, lei a distanza di vent'anni mi ha detto, ho compreso immediatamente che per Tommaso sarebbe stato diverso e sarebbe stato meglio, avrebbe avuto più possibilità di confronto, di parola, di dialogo, grazie soprattutto alla rete e io come mamma avrei e avrò e ho avuto molte più possibilità di aiutarlo, grazie appunto a tutte le informazioni che ho ricevuto in rete. Quindi da una situazione che, tra virgolette ovviamente, poteva sembrare senza uscita, Silvia ha capito che c'era un modo. E iniziamo dalla prima delle voci, una delle più importanti nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto in rete. Ascoltare col cuore, con la sensibilità, con la pazienza, come ci siamo detti, è a due facce. Da una parte ti rassicura, dice Silvia, ok? Non succede solo a me. C'è un mondo di persone che mi possono aiutare. Dall'altra, quando superi il momento nero, è il tuo turno. E lo sappiamo bene che bisogna ascoltare. Questi sono dati che conosciamo, sono abbastanza recenti. La parola, io mi sono concentrata su questo, è uno dei temi di salute più ricercati sul web. Cosa significa? Significa che con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi per informarci sulla salute, per dare informazioni, ma soprattutto per ascoltare i bisogni della gente. Cosa cerca la gente online? Di cosa è bisogno? Di quale informazione è bisogno? Come possiamo noi, professionisti, operatori, dargli quello che cerca? Beh, che cercano? Beh, non ci sono più scuse oggi. Abbiamo tantissimi strumenti a portata di click per capire cosa la gente sta cercando. Abbiamo una cosa che ignoriamo quasi sempre, non Google ovviamente, ma l'autocomplete, no? Quella cosa che completa le ricerche, che ci dice come la gente cerca certe cose. Perché non cerchiamo tutti uguali, non scriviamo tutti le stesse cose. E questo è molto importante per aiutarci a fornire dei contenuti che vadano incontro a un bisogno specifico. Abbiamo i trends di Google che ci hanno detto appunto il materiale di quell'articolo. Diabete è una delle parole più cercate nell'ambito della salute in queste regioni, la più cercate in assoluto. Sono informazioni importanti per comunicare al meglio. Abbiamo la possibilità di fare delle comparazioni di termini di ricerca. Non vi tedio, finisco qui con gli strumenti, ma era per dare un'idea. Vi faccio un esempio. Quando morì Paolo Villaggio, anche per complicazioni legate al diabete, le ricerche sulla parola diabete su Google si impennarono. Chiaro, no? La gente era curiosa, voleva sapere, voleva ricercare. È il momento per esempio di fornire dei contenuti originali e nuovi per andare incontro a quel bisogno. Si tratta di bisogni che vanno soddisfatti e che si incontrano. Vado avanti. Non dimentichiamoci le app. Le app sono fondamentali, sono in grandissima crescita. Prima del famoso dottor Google, prima del famoso dottor social. Ce ne sono di tantissimi tipi. Io mi sono affidata agli amici della farmacia Sarra Genova che so che ci seguono. Una delle farmacie più social d'Italia e mi hanno suggerito alcuni nomi. Una delle più valutate. Una delle più divertenti, con giochini, figure, immagini, utile anche per bambini o ragazzini adolescenti. Il dialogo. Vi farò vedere dei pezzi che farete un salto sulla sedia. Ci fa vedere Cosmopolitan. Ma perché? Perché il dialogo vuol dire anche e soprattutto andare a parlare dove il lettore è. Se io voglio parlare a una persona giovane andrò a usare, andrò su un canale declinabile sui social e molto giovane, giovanile in qualche modo. Giovanile è una parola orrenda ma comunque. Sette cose da non dire mai se esci con un ragazzo diabetico. Un articolo che ha avuto un successo strepitoso. Battute come questa, leggere, pop, quello che volete. Sono andate a incontrare un target. E l'autore non sparisce, si firma, dice chi è, e lascia il suo account su Twitter. Ci metto la faccia, sono qui, venitemi a parlare, chiedetemi. Questo è il dialogo. Altri esempi. La ragazza di Milano rifiutata da una discoteca perché aveva delle bustine di zucchero nel cappotto. Chissà come mai, no? Intervistata da Cosmopolitan che giustamente prende subito l'occasione e la fa parlare, le fa raccontare e lei dice la cosa più importante per noi giovani, per noi ragazzi sono i social. Una delle cose più importanti. Perché? L'ho riscritto qui, si vede meglio. Non chiudono mai e posso avere l'empatia di chi è come me. Ma anche, magari evito per qualche momento, per qualche volta di pesare sul mio network di aiuto familiare che a volte può essere provato molto se è usato come unico canale di sfogo. E qui arriviamo a uno dei punti più difficili, perché lo vedremo poi con dei dati. Se un like non si nega nessuno, perché ormai è un click che facciamo, altra cosa è coinvolgere le persone sul serio. Come? Passando dall'online all'offline. Silvia, torna la nostra amica Silvia e ci racconta. Online ho trovato un'associazione subito, immediatamente, che faceva campi scuola. Siamo andati, abbiamo fatto esperienze bellissime e mi ha regalato le sue foto. Si e conto delle calorie, dei carboidrati, dello zucchero, dei dolci. Stare insieme, tutti, la stessa età, lo stesso ambiente. Silvia mi dice, ci fosse stato quando ero giovane io, che bello. Però qui vediamo quello che vi dicevo prima. Questi sono dati di un istituto di ricerca più research center. Se un like si regala quando chiede un coinvolgimento più forte sui social, giustamente tutti noi ci ritiriamo. Servono contenuti veritieri, ci è stato detto, originali e che tocchino veramente il cuore delle persone. E qui arriviamo un punto dolente, ne abbiamo già parlato. Abbiamo sentito Claudio prima che diceva, la verifica fondamentale. Medici britannici minacciano di cancellare dalle loro liste i pazienti che arrivano dicendo, Google dice che. Ok? La cybercondria, termine ormai entrato su Wikipedia. Ancora in Italia no, ma in Inghilterra sì, negli Stati Uniti e in Inghilterra sì. Ma lo facciamo solo perché è colpa della rete, secondo voi? Anche è l'ennesima cosa che è colpa di internet. Forse no. Questo estratto, non pretendolo leggiate tutto, ma è di un libro del 1889. Tre uomini in barca. Se volete darci un'occhiata rapida. Il protagonista va in biblioteca, apre l'enciclopedia britannica perché ha qualche sintomo, 1889. Chiude l'enciclopedia britannica, va dal dottore e dice sto morendo. Ho tutto. Alla fine non aveva solo il ginocchio della lavandaia. Quasi un po' si offende perché dice come mai non ha quello. Quindi ragioniamo. Perché con la dovuta attenzione, se noi lasciamo perdere questi canali di comunicazione, è lì che perdiamo la battaglia. Se diciamo c'è ciarpame, c'è fuffa, è vero, è vero, ma non andiamo a presidiare il canale, non andiamo a dire quella che è la verità, quella che è la verità scientifica. Perdiamo un treno molto importante. Vado avanti. Ok, qualche slide ve la risparmio. Sanofi per esempio ha fatto un decalogo per l'informazione sui social. Alla fine poi lo strumento ideale, ce ne sono tantissimi strumenti, ma lo strumento principale è sempre il buonsenso. Un cantante, poeta, che io amo molto citare, amo molto in generale, che Andrea diceva siamo tutti coinvolti. Ecco, in rete siamo tutti coinvolti, non solo i giornalisti, non solo i medici, non solo gli scienziati. Chiunque di noi è responsabile per quello che rituita e condivide sui social. Meglio ragionare, crearsi un network di fonti importanti e autorevoli. E infine arriviamo all'ultimo punto, quello che la mia direttrice diceva, sappiamo fare da molto prima di internet. Verissimo. adesso lo facciamo su scala ben diversa, nel bene e nel male. Silvia ci dice, nella sua esperienza di tutti i giorni, sia i siti, sia le pagine delle associazioni, motore pulsante, cuore, canale per condividere cultura, informazione, combattere l'ignoranza. Anche lei sorridendo mi diceva, c'è quanta ignoranza, quanta incompetenza. E poi pensare sempre che la rete da virtuale deve diventare reale. Pensate che già nel 2012, negli Stati Uniti, questo è il blog di Forrester, Forrester Research, gli statunitensi non sapevano più dire quando erano online e da quando erano offline. Interrogati su quante ore hai passato online ieri, oggi? Non lo so, tre, cinque, sette, dodici? È chiaro che sia così, abbiamo internet in tasca. Ok, quindi è molto fluida la barriera fra quello che facciamo e siamo online e quello che facciamo e siamo offline. Esempi, sempre che mi ha dato Silvia, idoli, eroi di suo figlio e suoi. Ne abbiamo visti altri poco fa. Ne aggiungo due. Chiara Ricciardo e il suo fidanzato, che sono andati da Cesena a Singapore in bicicletta, lei è diabetica. Il blog, con molta eronia, For a Piece of Cake, si intitola. Guardate la presentazione del blog. Quante fette di torta, quanti chilometri, quanti giorni, quante dosi di insulina. Guardate come può essere aspirazionale, come può far scattare l'identificazione, ma essere anche strappare anche un sorriso. Monica Priore, diabetica, super sportiva, appassionata di nuoto estremo, attraversa golfi, raggiunge isole, ha una grinta pazzesca, ha scritto un blog, ha scritto un libro. Tra l'altro un blog che è proprio una foto di libertà, di bellezza. E Silvia ci ricorda ancora quello che ci ha detto prima, ma qui ho sottolineato in rosso la frase più importante, una rete che ascolti, dialoghi, faccia appunto rete, condivida, dia informazioni, aiuti. Non chiuda mai, anche quello è molto importante nei momenti in cui ne hai bisogno, ma che poi faccia il passo da virtuale diventi reale. Come in questo caso, lui è Tommaso, ve lo presento e ringrazio Silvia per avermi raccontato la sua storia, la storia di Tommaso. Felicissimo abbracciata Monica Priore, il suo idolo, la ragazza che nuota per golfi e per isole. Io spero di avervi lasciato qualche piccolo spunto, ci sarebbe da parlare per ore, non volevo che diventasse né una conversazione troppo tecnica né un'apologia della rete. Ci sono dei limiti, ci sono dei limiti da non oltrepassare, ci sono delle best practices, delle pratiche d'uso da seguire sicuramente, ma questi sono esempi di una bellissima parola che voglio dire ugualmente anche se è diventata talmente abusata che ormai siamo stufi di sentirla, un po' come la storytelling di Paolo prima. E questa parola è resilienza. E questi sono esempi meravigliosi di questa parola bellissima che non permettiamo di tirarla troppo per la giacca. Teniamocela perché è una parola che va conservata. Vi ringrazio e buona serata.